Tre giovani di cui due fratelli sono stati fermati per l'accoltellamento di Marcello Baglivo, 22 anni, attualmente ricoverato all'ospedale Sant'Elia in coma farmacologico dopo un intervento chirurgico. La squadra mobile diretta da Marzia Giustolisi ha sentito diversi testimoni per ricostruire la dinamica della lite nel corso della quale sarebbe stato picchiato un ventenne. Le attenzioni degli investigatori si sono concentrate su Michael Scimonelli trovato in una vecchia abitazione del centro storico dove si sarebbe rifugiato. Scimonelli veniva fermato sul tetto di un edificio. Rintracciato anche Anthony Scimonelli, i due venivano interrogati negli uffici di polizia giudiziaria dopo l'acquisizione delle riprese della telecamera di una banca vicina al luogo dei fatti. Entrambi avrebbero ammesso le proprie responsabilità indicando il nome della terza persona coinvolta, Giuseppe Gennone, cugino acquisito di Michael Scimonelli che quando veniva fermato indossava ancora una maglietta macchiata, a quanto pare tracce di sangue, maglietta posta sotto sequestro. Sarebbe stato utilizzato un coltello a serramanico non ancora ritrovato. I due, Scimonelli e Gennone, sono stati rinchiusi nel carcere Malaspina per tentato omicidio a disposizione dell'autorità giudiziaria.